Rodolfo, Aden, Expervia, Molfetta, Parisi Tommaso, Atletica Amadori Acquaviva, Raid Fuad, Polisportiva Rocco Scotellaro Matera, Pazienza Arcangelo, Vitonto Runners, Mele Virgilio, Atletica Amadori Acquaviva, Spingola Michelangelo, Valore e Salute Roma, Carlo Magno Maurizio, Atletica Correre Pollino Ci sono tutti? Cominciamo dal decimo che mi sa che è il più giovane di tutti Premia il consigliere Mazziotta a cominciare dal decimo Carlo Magno Maurizio Carlo Magno Maurizio, Correre Pollino, 36 e 47 Spingola Michelangelo, Valore e Salute Roma, 36 e 32 Mele Virgilio, Atletica Amadori Acquaviva, 36 e 23 Pazienza Arcangelo, Bitonto Runners, 36 e 04 Raid Fuad, Polisportiva Rocco Scotellaro Matera, 35 e 46 Parisi Tommaso, Atletica Amadori Acquaviva, 35 e 28 Quarto, Guastamacchia Rodolfo, Ex Privia Molfetta, 34 e 16 Entriamo nei primi tre Con il tempo di 35 e 56, Bonvino Gennaro, nuova atletica Giovinazzo Qui ci vuole un applauso un po' più forte per questioni di... non prendetela come un fatto campanilistico Grazie Polisportiva Rocco Scotellaro Matera, 33 e 40, Becce Donato Primo classificato, 33 e 09 Auccello Giovanni, Esercito Roma Anche la canotta del primo classificato della straferrandina offerta da Isaco Sport di Acquaviva delle Fonti Dovevi venire col camion Passiamo alla classifica generale delle donne Pischetto La Rosalinda, Lucchena Rosa, Russo Marisa, La Bianca Francesca, Montrone Teresa Tutte sul palco, grazie Ora vi dico nell'ordine come vi ho chiamato Pischetto La Lucchena, Russo, La Bianca, Montrone Quinta classificata, 42 e 59 Top Runners, la terza Pischetto La Rosalinda Con 42 e 53 Gruppo sportivo Due Sassi Matera, Lucchena Rosa A.S.D. Le Ombre dell'Albero, Brindisi, Russo Marisa, 42 e 16 41 e 06 Nuova atletica femminile Acquaviva, La Bianca Francesca Vincitrice della straferrandina sezione femminile Montrone Teresa, alter atletica Locorotonto, 38 e 37 Grazie Grazie Come abbiamo detto c'è il partnerato anche di Avis e quindi invito sul palco un delegato Avis per la premiazione Allora premia il presidente dell'Avis Atletica Amatori Torsi, 36 e 54 Francolino Giuseppe L'Avis liga pure la Sol che mi sembra un po' più grande Un po' grande, è una L Francolino è una rubacca Un po' grande, è un po' grande, è un po' più grande Un po' grande, è un po' grande, è un po' grande Quante connessioni reggira? Allora, adesso premiamo i primi 10 maschi fuori regione, sul palco lo russo Domenico. Passarelli Felice, Pennacchia Francesco, De Iure Domenico, Danzi Mario, Tortorella Pietro, Braico Vittorio, Lattarulo Palmo, Montemurro Cosimo, Moliterni Giuseppe. Grazie. 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 Grazie.